Dona anche tu per aiutare i pazienti recuperati nei riparti di chirurgia. Dona anche tu per curare il cancro. Dona anche tu per contribuire alla fabbricazione e imporso i vaccini. Dona anche tu per dare una seconda opportunità. Se fosse la prima volta per voi del donare sangue, ci occorrono grosso modo 45 minuti. Mentre normalmente una donazione, per chi è già esperto, impiega non più di 10 minuti. Quindi potete farlo bene agli altri in non più di 10 minuti. E in generale può donare chi pesa più di 50 kg e chi non ha subito degli interventi chirurgici gravi e importanti. Per poter donare non devi aver fatto tatuaggio e piercing negli ultimi 4 minuti. Negli interessi di chi riceve il sangue non devi fare uso di droghe e avere qualche partner. E il pilone devi aver subito trasfuso. Il sangue che donerai sarà trattato dagli specialisti del servizio trasfusionale e sarà preparato per essere trasfuso dai pazienti. ci assicuriamo che nessuna goccia verrà sprecata. Io oggi posso vedere crescere il mio bambino grazie ai donatori di sangue perché io ho ricevuto circa 700 sacche di sangue. Quindi grazie a loro vivo e vivo il mio mondo.